Bisogna procedere con metodo, qui Cartesio potrebbe darci una mano. Come il mio segretario distribuisce la camomilla, io distribuirò un libriccino che si intitola Discorso sul metodo, non si può mettere tutto insieme e appattumare tutto. Noi abbiamo tentato di risolvere con una variante il problema dell'adeguamento della pista aeroportuale di Firenze. Abbiamo fatto un'operazione anche di tutela ambientale perché, come sapete, abbiamo confermato il parco di 80 ettari della lottizzazione di Castello e abbiamo per la prima volta perimetrato un parco di 7.000 ettari, più di 7.000 ettari. Le soluzioni per la pista sono due, sono due, non una, sono due. Ci sarà un processo di partecipazione, di discussione, come è previsto regolarmente per ogni variante che andiamo a fare. Ci sono tutti i parametri che tutelano sotto il profilo ambientale perché non aumenti l'inquinamento in quella zona. Quindi procediamo con metodo. Non serve dichiarazioni che indicano ripensamenti, ad esempio riguardo alla cittadella. Non servono nemmeno accelerazioni con leggi speciali che, mi pare, laddove sono state proposte hanno sempre avuto poi un esito piuttosto negativo. Noi andiamo avanti pacatamente su una strada tracciata che, mi pare, è nell'interesse di Firenze, ma più in generale della Toscana.